Due, una del gruppo che ho firmato personalmente io e una presentata dai componenti del Popolo della Libertà che fanno parte dell'ufficio di presidenza. Abbiamo sollecitato al Presidente Fini una pronta espressione di una sua valutazione perché riteniamo che quello che si è successo ieri non abbia precedenti. Il Presidente pro tempore della Camera, in quel momento l'On. Bindi, ha espresso nei confronti del Capogruppo del Popolo della Libertà dei giudizi e delle valutazioni personalmente offensive, ripeto, nell'esercizio della sua funzione di Presidente dell'Aula. È una cosa che non ha precedenti nella storia del Parlamento, è una cosa che deve essere subito stigmatizzata perché se dovesse divenire un precedente creerebbe un vulnus nella correttezza dei lavori d'Aula e dei rapporti istituzionali tra i partiti ma direi tra le istituzioni.